Furto in pieno giorno in una delle strade più centrali di Arezzo. A subirlo nelle prime ore del pomeriggio la Bomboniera, un negozio di dolciumi in via Guido Monaco. Qualcuno ha approfittato dell'assenza dei proprietari nella pausa pranzo per entrare nel negozio e prelevare l'incasso della mattinata. Secondo qualche testimonianza il negozio penso che l'abbiano aperto verso un quarto alle due. Hanno visto la serranda alzata di circa un metro, sono entrati dentro e hanno fatto quello che hanno fatto. Siamo stati scassinati neanche se fosse una gioielleria e hanno portato via l'incasso. Hanno aperto la cassa, hanno alzato il tutto e hanno portato via. Hanno richiuso anche la porta però, sono stati gentili, hanno richiuso la porta. Ho chiamato la polizia, la polizia è intervenuta dopo un'ora. Hanno detto purtroppo signora la città di Arezzo è diventata una città d'alto rischio, ma oggi siamo fortunati perché abbiamo due pattuglie, la mettiamo in lista, appena possiamo veniamo. È venuta qui la polizia, abbiamo fatto quattro chiacchiere, ci siamo resi conto che siamo tutte vittime del sistema. Sono ormai all'ordine del giorno i furti nei negozi e nei bar di Arezzo. La sicurezza percepita dai commercianti e dai cittadini è indubbiamente scarsa come spesso denunciato. Viviamo nell'insicurezza, però sono anche molto incazzata, scusate i termini, perché non riesco a digerire questi soprusi, perché noi siamo qui commercianti, paghiamo le nostre tasse molto alte, non sono mai contenti, oltretutto via Guidomonaco è una via che non è per niente illuminata. L'abbiamo detto da anni che piazza Guidomonaco non va bene. A breve ci saranno le elezioni del sindaco, quindi io penso che chi andrà lassù avrà una grossa e grossa responsabilità, perché così non si può più andare avanti. È uno schifo.